Proponevano abbonamenti a una rivista inesistente al fine di raccogliere fondi e si spacciavano appartenenti alla Guardia di Finanza, e quanto hanno scoperto le fiamme gialle coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi, le quali hanno arrestato quattro persone. Il reggiro veniva effettuato attraverso delle telefonate dove veniva proposta la vendita di un abbonamento annuale a una finta rivista edita dalla Guardia di Finanza. I quattro contattavano quotidianamente igneri cittadini, prevalentemente gestori di pubblici esercizi o appartenenti alla Guardia di Finanza, invitando i propri interlocutori a sottoscrivere un abbonamento annuale ad una fantomatica rivista il cui pagamento doveva avvenire in contrassegno, precisando al fine di invogliare i malcapitati utenti che gli introiti sarebbero stati successivamente devoluti in beneficenza per aiutare le famiglie bisognose o colpite da catastrofi naturali. In alcuni casi, inoltre, al fine di persadere i propri interlocutori lasciavano intendere minacce di controlli tributari o comunque di conseguenze negative in caso di mancata adesione alla proposta contrattuale. Gli accertamenti effettuati dal personale della Compagnia di Palmi hanno permesso di individuare tutti i soggetti coinvolti e di ricostruire il modus operandi posto in essere, nonché i diversi ruoli e compiti ricoperti da ciascun individuo. Il lessodalizio criminoso era promosso, diretto ed organizzato da un uomo residente nella piana di Geatauro, il quale, con la partecipazione di un vitato collaboratore, proponeva telefonicamente le adesioni alla rivista, mentre altri due soggetti avevano il compito, l'uno, di provvedere al ritiro e alla consegna della corrispondenza e l'altro titolare di una tipografia e di stampare le false riviste. Alla fine sono stati emessi quattro ordini di custodia cautelare, tra cui uno agli arresti domiciliari, una misura dell'obbligo di dimora e due misure dell'obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria, oltre al sequestro preventivo di una società e di mobile utilizzato come sede del call center.